salve ragazzi sono pasquale dei we are macumba in questo video vi dimostrerò come scaricare film gratis anche quelli per esempio appena scissi dal cinema allora innanzitutto inizieremo scaricando dal nostro pre store l'app and dream dopo di che dove averla scaricata andremo su internet e cercheremo l'ora della ricerca la pagina film per tutti dopo di che cerchiamo il film in questa barra qui scritta search per esempio in questo caso noi abbiamo scritto fasting furios e ci siamo scaricati in questo caso fasting furios 7 come potete vedere vita come parte iniziale la trama del film ma vi da il trailer e poi sotto vita in le pagine dove sono presenti appunto i link per scaricarci il film noi useremo e che vi consiglio apertamente nuovo video dopo aver aperto una video successivamente il vostro dispositivo dirà appunto di salvare o no il link noi andremo su salva e poi dove il che ci apparirà questa barra dove noi sceglieremo poi o streaming o download per farvi un'idea noi adesso selezioneremo streaming in modo tale dare farvi rendere credibile appunto questa cosa scegliamo l'app per esempio lettore video e dopo di che carichiamo il video e con questo vi saluto alla prossima ciao 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 Grazie a tutti